Bello, metti lì anche fermo in mezzo al campo, Zvoni illumina con i suoi lanci, il pallone dentro, Sturua esce male, e poi gol del 3-1, segnato Viercovud! Che gol di Viercovud! E lui c'è sempre lì sotto, a voglia, cattivo, nusa la posizione più pericolosa e anche in questo caso con un pizzico di fortuna, però ha controllato bene, controllato benissimo, si è preparato e poi insomma sotto le gambe del portiere. Bravo Pietro! Il suo secondo gol con la maglia del Milan, 1, lo fece anche nell'unica stagione rosso-nero, 96-97.